Uomini e donne oggi, prime esterne per Niloufar, Sara e Nicolò Oggi uomini e donne, Nicolò Ragnolo dice no a Sabrina Ghio. Si ritorna alla puntata del trono classico di Uomini e donne in cui Sabrina Ghio fa la sua scelta. La donna comunica a tutti di aver scelto Nicolò Ragnolo, sapendo comunque che lui è un no. Il corteggiatore motiva la sua risposta negativa, spiegando che nessuno di loro due ha sbagliato. In ogni caso, il ragazzo non riesce ad andare via dalla trasmissione insieme a lei. E alla fine, il percorso della tronista di conclude con lamaro in bocca un po per tutti, soprattutto per lei che sperava davvero di riuscire a trovare lamore della sua vita. Si passa poi ai nuovi troni, ovvero Sara, Niloufar e Nicolò e a quello di Paolo Crivellin. Quest'ultima ha portato in esterna Marianna, mentre Angela ha deciso di non presentarsi all'uscita perché arrabbiata. . Nella scorsa puntata, Angela si era infastidita per l'atteggiamento del tronista e aveva espresso la sua volontà di andare via dal programma. . In ogni caso, oggi cè. . La ragazza e Paolo non si sono visti e lui comunica di aver apprezzato la sua reazione in studio nella scorsa registrazione, ma di non aver approvato la sua scelta di non andare in esterna. . I due discutono un po e in studio la gran parte dei presenti dà ragione alla corteggiatrice. . Intanto, Chiara non è stata portata in esterna e Crivellin la elimina perché non è abbastanza interessato. . Inoltre, Paolo spiega di non poter ancora scegliere perché non gli è scattato l'elemento emozionale che gli faccia perdere la testa per qualcuna. . Uomini e donne, le prime sterne di Nilufar, Sara e Nicolò. . Si passa poi ai nuovi troni. . Nicolò Brigante incontra Mena, Marta e Alessandra per capire chi portare in esterna. . Alla fine, il ragazzo non porta nessuna delle tre. . In ogni caso, è uscito con Virginia. . Con lei cè stata qualche incomprensione, ma alla fine si è risolto tutto. . Nilufar ha portato fuori Giordano, mentre Sara ha scelto di uscire con Luigi. . 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